Musica Approfondimento del TG8 con Massimiliano Del Conte, Max Del Conte, amministratore unico della Teate Basket. Partiamo dai numeri del Conte, i numeri dicono che con la gestione Coen è arrivata solo la sconfitta casalinga con Sansevero, i numeri più recenti, alla fine tanto recenti non sono perché sono 11 partite, dice che Chieti viene da 11 vittorie consecutive. Assolutamente sì, ho detto bene. La partita con Sansevero è l'unico neo di questa gestione e dico di più che è avvenuta senza Meluzzi e con Migliori che doveva ancora arrivare. Quindi sicuramente il banco di prova di Sansevero nelle prossime settimane, nella penultima di campionato, sarà già importantissimo per testare la nostra squadra in chiave playoff. Vogliamo fare bene, vogliamo arrivare il più in alto possibile, sicuramente il secondo posto è il nostro obiettivo principale. Vediamo di arrivarci pronti per poi giocarci tutte le chance durante i playoff. Da proposito di chance durante i playoff, la Coppa Italia che c'è stata qualche settimana fa a Porto Sant'Elpidio e Porto San Giorgio ha detto che quelle che sulla carta sembravano essere due corazzate del girone C e del girone D, ovvero Sansevero e Caserta, alla fine sono state eliminate al primo turno. Questo significa tanto equilibrio in una volata playoff e in un'eventuale Final Four di Montecatini oppure solo la classica giornata storta? Io seguo da diversi anni le Final Four a Montecatini e ti dico che ogni anno c'è una sorpresa. Quando si giocano i playoff cambia tutto, cambiano gli equilibri, cambiano le inerzie e soprattutto bisogna arrivarci mentalmente non scarichi e fisicamente a posto. Sono partite da dentro fuori, per quanto riguarda le Final Four sono due partite in due giorni, quindi anche fisicamente per chi ha dei senior con età importanti anche questo potrebbe pesare sul risultato finale. Dico io che secondo me nelle Final Four bisogna arrivarci mentalmente giusti. Sicuramente quello che abbiamo visto nella Coppa Italia è anche quello che è successo negli anni precedenti dove Sansevero non è riuscito a esprimersi. Sono partite che fanno maturare le squadre perché le partite importanti devono essere giocate in chiave playoff e soprattutto partite dove il risultato deve essere gestito durante i 40 minuti e non ci sono poi altri banchi di prova. Sicuramente è giusto quello che dici Max. Ti chiedo di più, prima di tornare a guardare a quello che è il vostro sogno, ti chiedo, ora a mente fredda perché di partite ne sono passate tante, 14 se non ricordo male della gestione Piero Cohen, che cosa è cambiato tra Chieti di inizio anno che comunque era una Chieti ambiziosa ma che non riusciva a ingranare e la Chieti di Piero Cohen che invece ha il passo delle grandissime? Sicuramente è cambiato l'atteggiamento della squadra anche a livello difensivo, riusciamo a tenere le squadre con medie punteggio in attacco normalmente alte, le riusciamo a tenere sotto i 70 punti, questo è un vantaggio che Piero, che è il coach, è riuscito a imprimere dal primo giorno che è arrivato. Cerchiamo di essere molto attenti per quanto riguarda cambi difensivi, difese a zona, quindi il coach in questo ha dato un valore aggiunto secondo me alla squadra. Ti dirò di più che è anche l'aspetto psicologico che ho visto nella squadra che è cambiato nella gestione passando da Sorgentone a Cohen. Ho visto i ragazzi molto più coinvolti e secondo me quando abbiamo preso la decisione di cambiare allenatore non era soltanto un gesto squisitamente tecnico ma c'era anche qualcosa in più che stavamo vedendo un po' fosse incrinato nelle ultime settimane perché poi alla fine avevamo perso la partita contro Bisceglie neanche troppo male. Però ripeto, era una svolta che volevamo dare per poter cambiare la stagione in una maniera diversa. Se dovessi dire Sogno Serie A cosa mi risponde Max Del Conte? Dopo la Coppa Italia ci sto credendo fermamente, nel senso che non ci sono le squadre che stanno spaccando il campionato anche se poi i numeri ci dicono il contrario. Come ti dicevo prima, giocare una partita playoff da dentro fuori è una partita importante e sarà sicuramente determinante come ci si arriverà. Noi secondo me oggi stiamo bene mentalmente quindi è quello forse il segreto delle 11 vittorie consecutive. Stiamo bene anche fisicamente quindi possiamo solamente ringraziare anche il professor Falasca che in questa settimana sta lavorando benissimo e quindi ci giochiamo tutte le chance fino alla fine. Rotazione molto lunga, la vostra, una rotazione a 9 effettiva. Potrebbe diventare a breve a 10 quartieri? Sì, è veramente triste vedere una realtà come Siena che ha grossissime difficoltà. Siena che negli ultimi anni ha prodotto tantissimo in Europa e soprattutto anche a livello di scudetti in Italia quindi insomma vederla adesso come nobile decaduta fa un po' male. però è chiaro che i giocatori che ha sono papabili da diverse squadre. Noi ci siamo, abbiamo già dei contatti con i procuratori di questi giocatori e vogliamo arrivare a prendere il decimo che sarebbe la ciliegina sulla torta. Oggi ruotare con 10 effettivi credo che nessuna squadra in Serie B possa permetterselo. Quindi questo sicuramente ci darebbe una chance in più per arrivare all'importante progetto. Anche perché rotazione a 10, playoff, partite ravvicinate, significa tanta energia fresca. Assolutamente come dicevo prima. Abbiamo sia migliori e sia gueie che solo anagraficamente hanno un'età importante perché poi alla fine sono giocatori per noi fondamentali sotto tutti gli aspetti sia in attacco che in difesa. Però è chiaro che giocare ogni due giorni in questo ci aiuterebbe tanto. Ci darebbe anche soluzioni diverse per quello che riguarda l'attacco e quindi anche e soprattutto per la difesa. Se scegliere del Conte sceglierebbe Radonic, Under quindi rotazione a 10 effettiva oppure Alex Ranuzzi per dire uno dei tre senior che comporterebbe però la rotazione in tribuna di un giocatore? Infatti la differenza è proprio quella. Radonic è una 97, Ranuzzi è comunque un senior quindi obbligherebbe il coach a dover fare una scelta su ogni partita. Dico Radonic perché mi piace come giocatore, già dai tempi di Roseto l'avevo apprezzato, l'ho conosciuto. È un ragazzo stupendo quindi per noi sarebbe veramente importante inserirlo. Chiaro che volete la Serie A a tutti i costi, lo sto capendo dalle dichiarazioni del presidente Marchesani nella nostra domenica sportiva, lo sto capendo da questa intervista fatta con Max Del Conte. Max Del Conte è stato uno dei pochi dirigenti di Parola che io ho conosciuto e vi spiego il perché. Mi ha detto l'anno scorso io porterò il titolo di Serie B a Chieti, molto scetticismo nell'ambiente abruzzese e non solo, ha portato il titolo di Serie B. Quindi è stato di parola. Ma Max Del Conte sta cercando anche un titolo di Serie A qualora non dovesse andare in porto quest'anno la Serie A o volete arrivarci sul campo? Fa piacere le parole che mi hai detto e quello che ci siamo sempre detti era rispettare la parola data anche nei confronti dei tanti tifosi che giornalmente incontravo. Sicuramente vincere sul campo fa bene, però qualora ce ne fosse bisogno siamo pronti anche eventualmente a parlare con delle società per arrivare a un titolo di Serie A. Questo è un progetto che comunque prevede di vincere sul campo, quindi la prima opzione sicuramente è quella, però siamo attenti anche a altre soluzioni. Io credo che chiudiamo così questo approfondimento perché Max Del Conte sostanzialmente ci ha detto con le buone e con le cattive. Noi vogliamo la Serie A, giusto Max? Assolutamente sì. Grazie.